45 poliziotti, equipaggi del reparto prevenzione crimine della Questura, unità cinofila e agenti della polizia locale per l'Onigo. Il giorno più lungo termina con una sorta di caccia all'uomo che permette di recuperare ascisce e coltelli, di mettere fogli di via nelle mani di tre stranieri e provvedere con le sanzioni per cinque esercizi commerciali. Una risposta ferma e puntuale alle richieste arrivate dal municipio di l'Onigo. Un edificio abbandonato della droga, dell'Ascis e coltelli che sicuramente servivano non solo per tagliare la sostanza ma anche per minacciare le persone come era successo qualche settimana prima a degli esercenti pubblici. E poi sono seguite le espulsioni, gli accompagnamenti al centro di permanenza e rimpatrio di Torino. Si è trattato solo del primo capitolo, tengono a precisare in Questura, qualora ci fosse la necessità di avviare le mazzini, fanno sapere di essere pronti ad effettuare nuovi controlli di questo tipo.